Ciao cavalieri, bentornati su Merlin, io sono il solito Giuliano, questa è la solita tavola rotonda Sì, ho sistemato la luce, ho sistemato la maglietta perché l'ultima volta dovreste aver visto il video con la maglietta arancione Perché non c'avevo quell'arte, eh regà, semplice Quindi sistemati queste piccole due, tre cosine qui e lì, eccomi qui di nuovo, come a tutti i mercoledì, a parlarvi di un gioco di ruolo Oggi vi parlo di un gioco molto particolare che è arrivato direttamente in questo fantastico sacchettino Con questa fantastica matita di cui vi parlerò, ma parliamo oggi del colore dei fiori Allora ragazzi, oggi sì vi parlo del colore dei fiori, ma prima di parlarvi di questo Il mio invito è iscrivervi al canale, accendere la campanella e mettere un like sulla fiducia a questo video Perché? Perché supportate il canale, perché supportate noi, perché ci fate crescere E soprattutto perché fate un piacere a Vasca, seditrice, a Giovanni e compagni Perché semplicemente se lo meritano, hanno tirato fuori un piccolo gioiellino, ma lo vedremo insieme Allora, di che parla questo gioco? Come è fatto? E come si gioca? Fondamentalmente Allora, con ordine Io ho preso l'edizione, una sorta di edizione deluxe, il pre-order, il pre-ordine In cui c'era, oltre al sacchettino, anche questa matita Un valore aggiunto non da poco Allora, il sacchettino lo potete usare per mille cose O per rimetterci dentro il manuale con cui è arrivato Oppure per metterci i vostri dati, per metterci quello che volete fondamentalmente I vostri ninnoli, le vostre miniature, insomma, di tutto e di più La particolarità risiede nella matita Che ho particolarmente apprezzato Perché? Perché al suo interno, o meglio, qui al livello del cappuccio Ci sono dei semi di girasole Che, una volta finita la matita Andranno semplicemente piantati E va da sé che nel vaso, nel terreno dove li avete messi Crescerà quel bellissimo fiore Che segue la luce del sole Come si presenta? È un manoletto veramente piccino, piccino, ragazzi Perché dovrebbe essere un B6, credo Sì, una cosa del genere È veramente piccolino Saranno 10 cm x 5, 6, 6 cm È una cosa del genere Davvero piccolissimo Ovviamente è in... Ovviamente è in brossura Perché fa una cosa del genere In cartonato Ragazzi, giuro Probabilmente solo quelli per bambini Che sono fatti così proprio per resistere agli urti Ma noi siamo tutti adulti Quindi cerchiamo di trattarli bene I nostri libri Ma... L'altra particolarità È che all'interno è Fatta con una carta molto spessa Si nota proprio Ogni singola pagina Tenderete a controllare che sia esattamente una Ogni volta che le sfogliate Vi renderete conto subito Che sono di una grammatura ben diversa dal solito Ora... Mi fa un po' strano Dover aprire tanto il bricino Per poter leggere Questo forse è giusto l'unico peccato Che ho trovato in questo prodotto Però per il resto Mi piace tantissimo Soprattutto perché la carta È così tanto resistente Che i più artistici di voi Io non certamente Io mi guardo bene Dal fare una cosa del genere Potranno aggiungere Del proprio A questo manuale Il motivo è semplice Molti dei disegni Che sono qui dentro Anzi tutti i disegni Che sono qui dentro Sono chiaramente in biancaniello Sono delle line art Sono linee Sono dei disegni Come quelli che si danno ai bambini Da colorare Ecco Questa cosa di colorare Il manuale Oltre che per alcuni Potrebbe essere uno scempio Un'eresia eccetera eccetera Può essere davvero Quel tocco particolare Che Non si disdegna mai Allora Sono tipo una sessantina Di pagine 70-80 pagine Questo gioco Quindi Questo manualetto Quindi non c'è molto altro Da dire Ovviamente è una monocolonna La spaziatura Non è molto ampia Però si legge Tutto molto bene Anzi Una particolarità Di questo manuale Cosa che Magari altri Non fanno O la fanno In modo un po' più Un po' più ampio Visto e considerato Che il numero di pagine Sono oggettivamente tante È il fatto Che ti induce Di volta in volta Pagina per pagina A dover necessariamente Continuare a leggerlo Fino a che Non lo avete finito Ora Sono 60 pagine Però 60 pagine Di questo formato Che è grande Praticamente come la mia mano Come potete vedere In pratica Le leggete Con un quarto d'ora 20 minuti Con mezz'ora Ti è Con un'ora Avete finito il manuale Quindi Non è che ci voglia Così tanto tempo Però Ogni singola pagina Tratta un argomento Vi dà degli spunti Per andare alla successiva Vi lascia delle domande Dei dubbi Delle perplessità Vi dice Vi dà delle informazioni Tali per cui In quel momento Ancora non ce l'avete Ma ce l'avete Alla pagina dopo Ecco Questa meccanica Questa dinamica Della lettura Secondo me funziona Per questo genere Di prodotti Parlare di un gioco Come questo Non è proprio Una passeggiata Perché Le sue fondamenta Sono all'ordine del giorno Lui parla Di tutto ciò Che ci circonda Di quello Che siamo giornalmente Di tutte le dinamiche Che ci attanagliano Ogni singolo giorno Della nostra vita Alcuni giorni Siamo più felici Altri giorni Siamo più stressati Più arrabbiati Più depressi Più abbattuti Ecco Tutta l'ambientazione Tutto il fondamento Del colore dei fiori Si basa proprio Su I sentimenti Che proviamo Di giorno in giorno Di situazioni Che abbiamo Di giorno in giorno Non noi come persone Ma in generale Un mondo come il nostro Come noi esseri umani Quindi Magari abbiamo Dei litigi lavorativi Oppure cerchiamo L'amore In qualche In qualche Amico o compagno Che magari non è corrisposto Tutte queste dinamiche Creano una sorta di Sfondo A quello che Si può giocare Qui dentro Di fatto Non c'è un vero e proprio Ruolo per ognuno Tutti fanno un po' Tutto Anche il master Che qui si chiama Gambo Non è proprio Un master vero e proprio Nel senso vero Del termine Qui il gambo È semplicemente Quella persona Che ha letto il manualetto Che ne conosce Il regolamento E sa come funziona Il tutto E di conseguenza È in grado Di poterlo spiegare Alle persone Che ha intorno Tutti fanno tutto Ho detto Ed è così Perché di fatto Voi avrete Uno spiritello Dei fiori Uno spiritello Dei colori Uno spiritello Che in qualche modo Cercherà di aiutare A risolvere una situazione La situazione Che vi ho appena spiegato Magari un conflitto amoroso Un conflitto lavorativo Un conflitto familiare Un conflitto di qualunque genere Forma Colore Dimensione Insomma È qualcosa che Le persone tenderanno A subire Come un problema Piuttosto Più o meno grave Ma che Questo spiritello Ha intenzione Di aiutare A risolvere Come lo fa Con la sua magia Tra virgolette Con la sua essenza Con la sua forma Ok Lo spiritello Tenderà Ad essere Un personaggio Un giocatore Di turno Sarà quella persona Che nelle scene Che si andranno A costruire Ve lo spiegherà poi Magari nel sistema Fra poco Prenderà il ruolo principale Prenderà proprio Il ruolo di questo spiritello E sarà lui poi A decidere Quando e come fare Determinate azioni Tutti gli altri Entreranno in scena E come personaggi Non giocanti E come Direttori di scena L'unico ruolo Particolare È proprio Quello del gambo Che cercherà di Amministrare Tutte queste figure All'interno Di una scena Ecco Il colore dei fiori Parte da qui Tutto si è tutti In modo Particolare In modo unico Probabilmente Ce ne sono altri Giochi similari In cui c'è Una narrazione Condivisa Mi viene in mente New Irlandia Che ancora Non ho trattato Qui sul canale La narrazione Condivisa E qui posso Parlarvi del sistema È ben Descritta In queste 60-70 pagine Lo fa in modo Molto particolare In primis Vi Come prima cosa Vi chiede Di mettervi seduti Tutti E di Fare mente locale Su quali sono Tutti gli argomenti Che non Volete trattare All'interno Di questa Narrazione Condivisa Allora Il colore dei fiori È un tipo di gioco In cui il sentimento E le emozioni Sono il fulcro Sono la base Emozioni che vanno Trattati di scena In scena Supponiamo Prendiamo per esempio Il tema Dell'amore Ok C'è una Ragazza Un ragazzo Che È Interesse Di Due o più persone Va da sé Che questo interesse Genera dei Fastidi Genera dei Equivoci Genera dei Dissapori Tra tutti i contendenti Questi dissapori Creano Fondamentalmente Il fulcro Ecco Questi argomenti E ce ne potrebbero essere Tanti altri Potrebbero ledere I sentimenti E le emozioni Di chi avete al tavolo Il manuale Vi Non Non Lesina Sulla richiesta E lo fa Pagina per pagina Ogni volta che Viene fuori L'argomento Di fare Ben attenzione A Le tematiche Che escono Di scena In scena Fa uso Anche di Parole chiave Che aprono E chiudono Una scena Che chiedono Aiuto Che bloccano Il naturale Corso Della narrazione Proprio per evitare Che Un certo Tipo di tema Possa ledere Le emozioni Possa ledere I sentimenti Delle persone Che avete al tavolo Ecco questa è una cosa Molto fondamentale Soprattutto per giochi Come questo Tolto questa fase iniziale In cui vi dovete mettere seduti E definire quali sono le cose Che non volete giocare O non volete toccare All'interno dell'argomento Fondamentale Fulcro Della vostra scena Della vostra narrazione Dovete concorrere Tutti insieme A creare La sinossi Della serata Della sessione Ovvero quella cosa Quell'argomento Che andrete a toccare A narrare Tutti insieme Scena per scena Fino alla fine Ogni scena Che è una per ogni Giocatore Al tavolo Per una per ogni Persona seduta Al vostro tavolo Sarà Abilmente Costruita Di volta in volta Dallo spiritello Di turno Di fatto lo spiritello Di turno È una sorta di Testimone Che si passa Di personaggio in personaggio Di scena in scena Fino ad arrivare A zero Di nuovo All'inizio O se Sì Fino a tornare All'inizio Con una naturale Conclusione Di tutta La storia Come si passa Di scena in scena Allora Il passaggio Di scena in scena Avviene sempre Solo con una frase Chiave Una frase chiave Che è Che è Un gesto Può fare la differenza Questa Questa frase Topica Della chiusura Della scena Aiuta Tutti i giocatori A vedere La situazione Come Conclusa In modo corretto Oppure Che è uscita Completamente Fuori dai ranghi Tendenzialmente Questa frase Può essere detta O Dal personaggio Di turno Dallo spiritello Di turno Oppure Da uno degli altri Componenti Della narrazione Quando è solo se Questi Questa narrazione È uscita fuori Dai binari È andata verso Una direzione Che non era prevista Oppure semplicemente Che è andata Verso una direzione Che le regole Poste all'inizio Le basi Poste all'inizio Siano state Violate O superate O oltrepassate O totalmente aggirate Ecco Con questa frase Si conclude la scena E si passa Al testimone successivo Ma Prima di passare Il testimone Al testimone Al giocatore successivo C'è qualcosa da fare Vedere Come è stata risolta La scena Come andrà passata Al giocatore successivo Se in modo Positivo O in modo Negativo Qui Lo spiritello Di turno Può decidere Di investire Un certo numero Di petali Che è un elemento Importante Fondante Che avete Sulla scheda Del vostro personaggio In un numero Finito Di punti Dovrebbero essere 7 Se non ricordo male In cui decidete Quanti ne volete investire 1 2 O 3 Ne avete a disposizione Come ho detto Quel certo dot Quando ne disponete O ne investite Un certo dot Allora avete a disposizione Un tipo di dato Ben definito Con Avete un D6 Un D8 E un D10 In funzione Se avete speso Un petalo Due petali O tre petali Il lancio Di questo Di questo dato Implica anche Un certo successo Se lanciando Il dado Ottenete un 5 Più Allora avete avuto successo Se per qualche motivo Avete ottenuto Un 4 O meno Allora La risoluzione Della scena È avvenuta In senso negativo Che cosa significa In termini pratici Non che è successo Qualcosa di realmente Brutto Ma semplicemente Che l'azione Che lo spiritello Ha voluto Intraprendere È scaturita È scemata In qualcosa Di più brutto O di negativo Rispetto alla sua Alla sua volontà Una volta Che tutte le scene Sono state concluse Sono passate E sono tornate All'inizio Si viaggerà Verso la chiusura Della storia E si fa Semplicemente Contando I colori Sì Sulla scheda Di ogni personaggio Di fatto Di ogni spiritello Magari cercherò Di farvi vedere Qui davanti La scheda Voi avete a disposizione Un certo numero Di petali 7 per l'appunto Come dicevo Che andranno poi colorati Colorati del colore Del sentimento Con cui avete interagito Con quella persona Con quel Con quell'elemento Se E solo se Avete fatto Un successo Se per qualche motivo Durante il tiro Aveste ottenuto Un insuccesso Allora I petali sarebbero stati Colorati di nero Può sembrare Particolare Strano Però vi posso assicurare Che Provato al tavolo È un gioco Che comunque Scorre veloce Alla fine Si tratta soltanto Di una sola scheda Che gira Per i personaggi Quindi Non c'è molto da fare Colorate In funzione Di quello Che avete scelto Alla fine Sono 7-8 colori Quindi niente Di particolare Una volta Che il testimone È tornato all'inizio Ecco qui Che parte La scena finale Come si concluderà L'isoluzione Il tema fondante La sinossi principale Come chiuderà Il cerchio Lo chiuderà In funzione Di quanti pedali neri Avrete in funzione Di quanti pedali colorati Avete ottenuto Sulla scheda Maggiore È uno O l'altro Questo poi Porterà A determinare Se La risoluzione Sarà positiva Nel caso Di maggiori colori O negativa Purtroppo In caso Di maggioranza Di nero Lo spiritello Non è riuscito A imprimere La sua positività All'interno Delle persone Magari Troppo chiuse In loro stesse Magari Troppo arrabbiate Non c'è Un vero e proprio Fallimento In questo Semplicemente Il povero Spiritello Di turno Non è riuscito A fare Più di così Ora ragazzi Questo è fondamentalmente Tutto il gioco Come ho detto Si lanciano pochi dati Che ne penso Penso che Questo sia un gioco Particolare Un gioco Che richiede Molta attenzione Un gioco Che non può Essere fatto Con perfetti Sconosciuti Al tavolo Un gioco Che se Dovesse venire Fatto Con perfetti Sconosciuti Al tavolo Richiede Estrema E sottolineo Estrema Attenzione Perché non Avete idea Di chi avete Al tavolo Non avete idea Delle persone Con cui State interagendo Né Del loro Trascorso Né Del loro Passato Né Di chi Sono Attivamente È un gioco Che si impara Veramente In pochi secondi Basta leggere E si va Rapidamente A conclusione Per il resto Trovo che sia Un gioco Che apre la mente Che apre Ai sentimenti Che permette Ai giocatori E soprattutto Di esplorare Nuove tematiche Nuove tematiche Che magari In un gioco normale In un gioco Di ruolo classico Non si riescono Ad affrontare Completamente Qui invece Con il colore dei fiori Riuscireste Ora Altre considerazioni Personali Come ho detto All'inizio È questa matita È tutta La presentazione In questo contesto Michele Come Tutto il gruppo Di Vascas Hanno tirato fuori Un gioco Che colpisce Colpisce forte Colpisce Tra virgolette Anche molto duro Molto duro Perché i temi Che possono essere trattati Sono complessi E difficili Ma Una cosa Che posso E voglio dirvi È che Trattatelo sempre Solo Come un gioco Se Vedete O sentite Che qualcosa Non va Fermatevi C'è La chiave La parola chiave Per uscire E fermare tutto E Semplicemente Chiudete il gioco Lì Per il resto L'ho trovato Veramente Sublime Sopraffino Sopraffino Sottile Importante Soprattutto Per quello Che può Andare A raccontare Detto questo Ragazzi Ho parlato Tanto Probabilmente Anche Troppo Per questo Genere Di gioco Più che altro Perché va Va vissuto Oltre che Che ascoltata Una recensione O quattro Chiacchiere Se avete domande Scrivetelo qui Nei commenti Per il resto Io vi posso Soltanto invitare A Iscrivervi al canale Ancora una volta A lasciare un like A questo video Ad accendere la campanella Per ottenere Sempre tutte le notifiche A seguirci su tutti i nostri social A seguire Vascas Perché Perché tira fuori Sempre prodotti interessanti Per il resto Spero di vedervi presto In giro Magari Proprio a giocare Al colore dei fiori Ciao